Siamo con Mauro Caprani, candidato sindaco per la città di Erba alle elezioni amministrative. Una candidatura sostenuta da bene 5 liste, lo ricordiamo Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, le liste civiche Erba prima di tutto e Il Buon Senso. Innanzitutto un saluto a Mauro Caprani e la prima domanda, così fredda, perché ha deciso di candidarsi a sindaco della città di Erba? Buonasera a voi innanzitutto, perché ho deciso di candidarmi? Perché credo che lo spirito di servizio che mi ha animato in quasi 30 anni di pubblica amministrazione mi ha portato a essere il candidato unitario della collezione di Centroderta, credo che alla fine sia proprio una specie di, non dico di vocazione, ma di missione, mettiamola così insomma. Una candidatura caldeggiata tra l'altro dalle segreterie regionali e nazionali da questo punto di vista. C'è qualcuno che l'ha vista come un aspetto negativo della vicenda, ma può essere anche un aspetto positivo a questo punto, da giocare con i dovuti numeri? Ma se vogliamo parlare del candidato del centro-sinistra Berna, la sua candidatura è stata caldeggiata da Enrico Ghioni, la mia è stata caldeggiata da segreteria regionale per il semplice motivo che io, essendo segretario provinciale di un partito, sembrava fuori luogo, che mi autocandidassi o mi autoproclamassi quale candidato sindaco della città di Erba, mi sembra nell'ordine delle cose, insomma, se poi qualcuno la vuole leggere in qualche altra maniera, va bene, insomma, la realtà dei fatti è questo. Di fatto però, questo significa che il legame tra la candidatura Caprani e quelle che sono le segreterie, le forze regionali e nazionali è intenso, diciamo, e questo può andare anche a favore della città di Erba. Io intanto mi onoro di essere segretario provinciale di Forza Italia, mi onoro anche che Lega e Fratelli d'Italia abbiano potuto trovare una convergenza sul mio nome, oltre al fatto di Erba prima di tutto e della traduzione civica del buonsenso, che hanno trovato un punto di sintesi su di me, insomma, per quanto riguarda la questione dell'investitura da parte del segretario regionale, penso che se si dovesse vincere la città di Erba non può che trarre beneficio, visto che siamo al governo di regione Lombardia e abbiamo un filo diretto con la giunta regionale. Che città sta scoprendo durante questa campagna elettorale e che magari non conosceva, non pensava di trovare? Ma fondamentalmente è la città che conosco da più di 40 anni, una città con un tessuto sociale operoso, con pochi che vada alla sostanza e non alla forma, una città che però mi sembra che stia scontando forse un po' troppo quello che è stata la pandemia, per cui ci sono ancora molte situazioni in cui incide parecchio sulla socialità. Ecco, allora veniamo direttamente alla terza domanda. La città pare poco frequentata, depressa, anche se so che il termine non le piace. Allora possiamo parlare del rischio di trasformare Erba in un quartiere dormitorio, così come il rischio c'è per tanti altri centri della Lombardia e di tutta Italia. Come la vede? Cosa si può fare per rianimare una città che esce da due anni di pandemia? La questione del quartiere dormitorio non mi trovo d'accordo per il semplice motivo che Erba e i suoi cittadini mi sembra che siano, come posso dire, fieri di esserlo e non certo abitare o frequentare una città che vedano come un volgare postoletto. Se parliamo di scelte politiche e di visioni politiche, per cui hanno condizionato e inciso lo sviluppo di una città che non fosse solo il luogo dove rinchiudersi la sera dopo una lunga giornata di lavoro, ha ragione anche. Allora bisogna chiederlo magari al candidato Berna quando era assessore urbanistica negli anni in cui era nella giuntice il signor San Giorgio, perché è cominciato da allora un certo tipo di edificazione. Per il resto io penso, spero, voglio pensare che una nuova amministrazione possa mutare un po' quello che è la visione di Erba della nostra città. E collegato a questo, allora a questo punto parliamo anche di aree dismesse, perché c'è l'occasione, l'opportunità per creare nuovi spazi aggregativi, al di là del fatto che si sta parlando di terreni privati. E questo è un po' il problema, quello di mettere d'accordo dei proprietari privati su aree per le quali il Comune non ha la possibilità di intervenire. Allora cosa si può fare? La domanda mi sembra pertinente, perché credo che qualcuno non abbia ancora ben capito come è la situazione, ma anche qualche candidato sindaco, insomma. Parliamo di quattro proprietà, quattro proprietà private, in cui il Comune non può fare nulla, se non utilizzare gli strumenti che ha a sua disposizione per agevolare certi percorsi. ma non è che io vengo a casa sua e le dico di abbattere un tavolato o farlo in un'altra maniera perché io sono del Comune. A casa sua lei fa quello che vuole. Io, proprietario di un'area di smessa, se ho la convenienza, ho l'opportunità, edifico, rigenero, ma se non lo voglio fare, non lo faccio. Il Comune che cosa può fare? Nulla. Può solamente mettere a disposizione dei privati degli strumenti che ci sono, perché i percorsi di rigenerazione siano più snelli, che non siano legati a un comparto unico che è enorme, che si possa magari procedere per gradi, sempre nell'interesse del pubblico. L'unica cosa che il Comune deve assolutamente fare è un piano di utilizzo delle aree, sempre per quanto riguarda l'uso pubblico, che sia confacente alla pubblica utilità e che si possa realizzare per lotti funzionali. Come pensa di formare l'eventuale nuova giunta comunale? Con esterni, consiglieri eletti? Ci sono già dei nomi, avete già le idee chiare a questo proposito? Prima cosa le elezioni vanno vinte. Dopodiché sarebbe inutile e anche poco sequioso nei confronti di ben 80 candidati che stanno setacciando il territorio alla ricerca di consensi poter e dover parlare di queste cose in questa sede. Non l'ho mai fatto prima, non lo farò a certo ora adesso. Io sono dell'idea che le giunte comunali debbano essere composte per rappresentatività ed anche per competenza. Se le due cose coincidono, tanto di guadagnato. Ma non è assolutamente pensabile oggi dare una risposta in questo senso. Quindi ci sarà da lavorare parecchio per formare la giunta. Ecco, una domanda che può magari apparire sconveniente in questo momento, quella che ho appena fatto. Però in passato ricordo che qualche candidato aveva giocato il nome del suo vice sindaco o di qualche assessore pensando che fosse opportuno, perché portasse voti alla coalizione. Evidentemente nel vostro caso non è così. Per quanto mi riguarda la politica è un gioco di squadra. I singoli non vanno da nessuna parte. I leader o cosiddetti tali, quando non hanno un consenso e soprattutto un gruppo dirigente che li possa sorreggere nel momento di necessità, sono destinati a breve vita. Quindi il singolo candidato, la singola persona che si pensa, possa far fare alla coalizione un salto di qualità, io non ci credo. E allora concludiamo con un appello agli elettori. L'appello agli elettori è di andare a votare. Andare a votare votino ovviamente che ritengono opportuno, ma andare a votare perché da qualche anno a questa parte vi è una disaffezione a torta ragione verso la cosiddetta politica. Siamo, stiamo, ci apprestiamo ad un'azione amministrativa di livello comunale, quindi più vicina alla gente, quindi normalmente i dati sono più alti rispetto alle politiche o alle regionali, ma visto il trend che c'è in atto si rischia di questo passo, dico una parola forte, di cadere alla fine nell'anarchia. È importante andare a votare. Votino chi vogliono, ovviamente, ma che vadano a votare. Ringraziamo Mauro Caprani, candidato sindaco per la città di Erba. Grazie a voi.